Ben trovati i rati G della mobilità lapisana da lunedì previsti sul manto stradale di via Longhena, via Beltrami, via Vanzini e via Coppedè. Dalle 9 deviate le linee 881 e 792, disattivate 10 fermate di bus. L'agenda di domani con riflessi sulla circolazione dalle 15 alle 18 in piazzale Ugo Lamalfa si svolgerà uno spettacolo satirico al Circo Massimo dalle 16 alle 19 manifestazione No Green Pass di vieti di sosta su via De Cerchi e via del Circo Massimo. Possibili chiusure, infine, oggi e domani le metropolitane A, B, B1 e C seguono l'orario lungo con le ultime corse da Capolinea all'1.30. È tutto per questa edizione.